Andiamo al segno dello scorpione, questa è una luna che ha a che fare con i beni materiali, ha a che fare con il lavoro, la vita di tutti i giorni, la vita quotidiana, un lavoro che vi permette di ottenere il massimo proprio dalla fatica fisica che voi sarete chiamati a fare in questa giornata, attenzione perché non è una giornata facile sotto questo punto di vista, dovrete rimboccarvi le maniche, ma tutto ciò che farete poi alla fine porterà dei risultati anche a livello economico. Devo dire che c'è bisogno per voi di fortuna sotto questo punto di vista perché le spese a causa di questo mercurio sono state tante nell'ultimo periodo, ma le cose stanno per cambiare perché già nei prossimi giorni questo mercurio diventerà vostro alleato.